La capacità di amarsi che abbiamo tra noi cast, per cui il cuore che mettiamo in ogni scena, cioè veramente ci teniamo tanto, tanto perché passi un messaggio di valore e di amore. Eccola qui, davanti le telecamere di Imovi, Margot. Mi piacerebbe, bene, grazie. Social, World, Film, Festival, quale di queste quattro secondo te è un sacco di roba, è la parola fondamentale? Ovviamente social, nel senso che adesso dobbiamo veramente sentirci anche come Italia, un po' più vicini uni agli altri. Le Spike Award per l'impegno sociale mostrato nella fiction Rai di grandissimo successo, un medico in famiglia, dove l'importanza della famiglia viene sottolineata in tutte le sue sfaccettature. Tra i protagonisti, tu risulti essere la più amata. È un personaggio positivo, da esempio per tutti. Ha mostrato la sua professionalità anche oltre il piccolo schermo.